chi non si diverte a fao shopping sfrenato anche perché fao shopping sfrenato vuol dire che non pensi a quello che stai a fare sfrenato quindi praticamente si lo compra si lo compra si lo compro devi avere un momento intanto di grandissima ricchezza primo per esempio seconda cosa poi anche di grandissima leggerezza che non pensi alla realtà della vita e quindi te ne freghi e butti tutto lì dentro tipo giù box però e via brava e via nel senso che via una camisetta e via il maglione via le scarpe via